Buonasera a tutti, mi spiace moltissimo di non essere lì, ma non ci sono fisicamente, ma in realtà ci sono. Ringrazio subito il sindaco Gabriele De Marco per questa bellissima iniziativa e per aver accolto la poesia nel suo paese, nel cuore del suo paese. E ringrazio Menotti Lerro per il concerto che tra poco ascolterete o che avete appena ascoltato e che ha dedicato a me. E purtroppo impegni mi hanno portato altrove, ma sono felicissima e sono lì con voi in ogni nota e ad ogni istante. Grazie, grazie, grazie per questo bellissimo dono per il mio quarantesimo compleanno. Un abbraccio grande.